Mirko Carloni entra nella Lega di Fano, assieme a lui anche i due consiglieri comunali della lista civica Progetto Fano, Marianna Magrini e Gianluca Ilari. Se per gli ultimi due si può già parlare di una tessera firmata, il consigliere regionale di Alleanza Popolare Mirko Carloni ha preso qualche giorno sabbatico per ufficializzare la sua entrata nella Lega. Di fatto è che ieri sera, nel settimanale incontro tra iscritti, i tre nuovi ingressi sono stati, come vuole la prassa interna alla Lega, presentati alla platea. Al netto delle motivazioni personali per ognuno di loro che certamente conosceremo in seguito e nelle sedi opportune, va registrato il fatto che in seno alla Lega Fanese, da quando Massimo Meie è divenuto il coordinatore locale, è in atto un rinnovamento delle compagini, sia come età anagrafica che come espressione politica. Ser Filippi I, Carloni, Magrini e Ilari Ora si inquadrano proprio in questo scenario, incarnando l'identikit ideale del nuovo leghista fanese. Giovane con freschezza di idee, ma con esperienza in politica e soprattutto un politico del fare, come si è dimostrato in questi anni appunto Mirko Carloni, giovane di età anagrafica ma di navigata esperienza politica, partito dai banchi del Consiglio Comunale di Fano per arrivare a sedere nel Consiglio regionale delle Marche. Carloni per la Lega Fanese rappresenta un deciso valore aggiunto che in termini di lista aggiungerebbe un marcato aumento del peso specifico in termini elettorali. Niente dilettante allo sbaraglio, giovani buttati nella mischia quindi, ma un'attenta cernita, ci sottolineano dalla Lega Fano, di persone abituate a rimboccarsi le maniche e ad agire. Le file del centrodestra si stanno rinforzando ed allargando quindi in vista della battaglia elettorale per lo scranno di sindaco della città che ci attende fra qualche mese. Una lotta che si preannuncia a giocarsi ancora una volta esattamente come cinque anni fa tutta o quasi sul nodo sanità ed ospedale unico che come espresso dall'ex presidente di Aset S.p.A. Teodosio Auspici, uno di sinistra doc, porterebbe da un duello tutto al femminile Tarsi Ruggeri, due paladini della difesa del Santa Croce, mentre al PD locale e da seri la scelta sulla clinica privata e la combutta con il duo Ricci Ceriscioli costerebbe non solo la poltrona ma anche l'esclusione al ballottaggio. Vedremo se sono rose fioriranno, si dice, ma le rose hanno anche delle spine ed alcune si piantano spesso nel fianco. Di certo assisteremo ad una lotta senza esclusione di colpi, per intanto attendiamo a stretto giro le motivazioni che hanno animato Carloni, Magrini ed Ilari ad entrare in Lega.